La cattedrale è centro e principio della vita diocesana. In occasione dell'anniversario Monsignor Tanasini insiste sulla necessità di recuperare il senso della chiesa particolare, la diocesi appunto, che è una porzione del popolo di Dio affidato alle cure pastorali del vescovo. Un vescovo che naturalmente non può essere ovunque, per questo ci sono le comunità parrocchiali, cellule della chiesa diocesana. Di qui la prima riflessione. Le parrocchie non possono fare vita a sé, nonostante sia questo il pensiero spesso dominante. Non può essere autonoma, come tante volte, troppe volte noi lo concepiamo. Una realtà che si contrapone agli altri, che prende le distanze delle altre, che afferma la propria identità nel distacco addirittura dall'ignoranza della chiesa diocesana. Questo non è possibile. La seconda riflessione riguarda il legame tra parrocchie e diocesi, un rapporto che va coltivato nell'animo dei fedeli e del clero, ad esempio nella celebrazione comunitaria della messa domenicale. Secondo il vescovo, deve essere favorito uno spirito di collaborazione. Bisogna avere la capacità di collaborare con la diocesi, di dare il loro apporto alla diocesi, di allargare nelle stesse comunità parrocchiali questo senso di comunione, di partecipazione, di collaborazione. E tutto questo proprio per il senso della chiesa particolare. In conclusione, Monsignor Alberto Tanasini invita a riscoprire la bellezza e l'onore di appartenere alla chiesa diocesana di Chiavari, di cui spesso, conclude, sembra esserci poca consapevolezza.